Tutti insieme attorno allo stesso tavolo per parlare di come affrontare l'allarme e inquinamento. È stato il sindaco di Capannori, Luca Menesini, a volere questo incontro dopo i rilevamenti di Arpat, rappresentata al vertice dal direttore Gaetano Licitra, che hanno evidenziato otto sforamenti di PM10 nei primi otto giorni di gennaio. Una vera emergenza contro la quale i provvedimenti dei singoli comuni non possono fare niente. Con una politica condivisa invece, secondo Menesini, possono arrivare proposte efficaci. Il motivo per cui abbiamo convocato questa riunione è quello appunto di poter adottare misure omogenee o uguali su tutto il territorio della Piana, cioè tutti i comuni della Piana adottino le stesse misure. Quindi sto parlando delle domeniche ecologiche piuttosto che altre misure sul riscaldamento domestico, i fuochi di sfalci e potature sul nostro territorio, ma anche vedere quindi accanto a queste misure che definirei ordinarie, quale progettualità possiamo intraprendere insieme. Progettualità che possono riguardare il traffico, che possono riguardare il tessuto produttivo del nostro territorio e che possono riguardare anche il riscaldamento domestico. Quindi quelle tre grandi fonti, quei tre grandi aggregati che sono quelli che incidono più di tutti sulle emissioni di PM10 in atmosfera. Più di una volta si è discusso sull'anomalia che vede una sola centralina posizionata a Capannori rilevare l'inquinamento su tutta la Piana. Ma in arrivo ci sono delle novità e comunque, spiega ai nostri microfoni il direttore di Arpat, la centralina capannorese garantisce l'attendibilità per tutto il territorio. La posizione della centralina è stata accuratamente scelta attraverso degli studi e attraverso dei progetti che sono stati svolti dalla regione toscana in collaborazione con altri enti, con istituzioni universitarie e anche con la stessa Arpat. Dopodiché ovviamente nulla è fisso per sempre, nel senso che via via che i dati arrivano vengono analizzati e la stessa regione e il Ministero stanno provvedendo anche a valutare la possibilità di aumentare questo numero di centraline limitatamente alle effettive necessità. Per cui nel prossimo periodo ci sarà un ulteriore centralino a Lucca, questo ormai lo possiamo dire, nella zona di San Concordio.